Mamma mia ma che partita mi sono visto, poi dicevano che giocare alle 12.30 è penalizzante, noioso, ma finalmente ci divertiamo anche un po' in Serie A, ragazzi io è di inizio di quest'anno che ho detto il calcio in Serie A sta cambiando già da qualche anno, ma quest'anno mi sto veramente divertendo, ogni partita è bella, io ero visto Napoli a Tannata e mi sono divertito, Sabadoria Lazio un po' meno, recuperate il video se ancora non l'avete visto, in alto a destra nelle schede e oggi la partita di cartello, oggi ho detto non mi posso perdere Bologna e Sassuolo e ho fatto bene 3 a 4 una partita bellissima, ricca di cambi di fronte, di risultati clamorosi, perché prima è in vantaggio il Sassuolo, poi il pareggio, poi addirittura il 3 a 1, il 3 a 1 del Bologna sembrava appunto chiusa, 4 a 3, 4 a 3 il Sassuolo che è una squadra inesauribile, occhio ragazzi perché questo Sassuolo non si pone limiti, per l'Europa League è un avversario ormai veramente concreto, non è che dici può forza, se no è un concreto, quindi occhio, occhio a Lazio, occhio a Roma, perché questo Sassuolo veramente può competere anche con noi, mi metto un attimo gli occhiali, faccio un attimo il recap dei gol perché ne hanno segnati talmente tanti che non ricordo più bene, comunque allora, Soriano ce l'ho al fantacalcio, è una sicurezza, Soriano l'ho preso in 3 fantacalcio perché so che veramente è una bestia, e l'azione del gol di Soriano del Bologna è un qualcosa di straordinario, azione in contropiede, tutto i tocchi, massimo due tocchi tutto di prima e poi Palacio che fa una cosa incredibile, l'errore di Chiriches, creva in raddoppio su Palacio e si dimentica dell'inserimento sempre puntuale di Roberto Soriano e Palacio veramente fa una giocata incredibile, Palacio è da clonare, poi ha fatto un errore sul terzo gol del Sassuolo, però vabbè, Palacio veramente a 39 anni è incredibile, ieri abbiamo visto Ibra a 39 anni ma anche Palacio non è da meno, e pensate che un giocatore che in carriera non ha vinto un trofeo, però ha una classe innata incredibile, gol di Soriano, poi arriva il pareggio del Sassuolo con Berardi che si fa un bel tiro, ma difesa del Bologna troppo bassa, lo lascia tirare, lo lascia pensare, lo lascia mirare e questo Domenico Berardi, giocatore che io ho sempre stimato tanto, che non ha mai trovato la continuità, la sta trovando quest'anno e l'errore anche un po' appunto della difesa troppo bassa del Bologna e anche di Poskorupski l'ho visto un pochino in ritardo, che il tiro non era secondo me angolato ma non irresistibile. Poi arriva il raddoppio del Bologna e nel momento in cui il Sassuolo sembrava poter anche ribaltare la partita, perché parliamoci chiaro, due squadre che hanno qualità, concedono tanto, però il Sassuolo è superiore, però comunque il Bologna riesce a dire la sua, gol di Svanberg perché il Bologna ha due mediani terribili, scout e Svanberg veramente bravi, assist ovviamente di Roberto Soriano che mi pare che al Fanta mi prende 11 e mezzo, quindi una sicurezza, una sentenza. E poi nel secondo tempo su un errore di Locatelli, Locatelli che ha fatto una buona partita ma un errore grave in fase di disimpegno perché c'è questa tendenza ragazzi, il Sassuolo è una squadra che gioca a calcio, a volte tiene un po' troppo a pallone, errore di Locatelli in disimpegno. La ruba Orsolini e Orsolini che non mi è piaciuto, cioè tra tutti quelli davanti è quello che mi è piaciuto meno, però comunque fa un bel gol. E lì la partita sembra chiusa perché comunque 3-1, manca 30 minuti, ma subito ragazzi all'improvviso Diurici su un grandissimo assist di Caputo e firma il gol, anche Diurici ce l'ho al Fanta Calcio, giocatore da prendere sempre quest'anno. Poi arriva il 3-3 di Caputo, lì su un errore di Palacio perché è un calcio d'angolo, Palacio svirgola nel tentativo di rinviare e Caputo era pace d'ara, Caputo anche lì ho finito le parole, giocatore totale, assist, gol, non da punti di riferimento, quindi veramente bravo. E poi ragazzi, mi spiace per Tomiasu che è un ottimo giocatore, però appunto su un cross di adesso non mi ricorse Berardi o Raspadori, vabbè. Comunque praticamente l'uscita di Skorupis che è un po' incerta e Tomiasu la butta dentro, autogol classico sfortunato. E poi il Bologna non è andato mai vicino, non ha mai dato la sensazione di poter rimontare almeno un 4-4, anzi il Sassuolo ad esempio con Raspadori è andato ancora vicino al gol. Ma il Sassuolo c'è grande qualità anche nell'individualità, oltre poi al gioco e al lavoro di De Zervi, perché per dire Raspadori ha fatto due trazioni incredibili, ha fatto un cost-to-cost veramente alla Giorgio e A, no, quindi adesso faccio un paragone così, il primo che mi è venuto in mente, quindi grande lavoro di De Zervi, ma ripeto, il Sassuolo ha qualità in tutti i suoi interpreti, anche nelle riserve. E Bologna che è partito male, tre sconfitte e una vittoria, Bologna che, mi spiace dirlo, ma a me è una bella squadra, però il lavoro che sta facendo Mialovic al Bologna non mi piace, non sta dando continuità e equilibrio a questa squadra, e quindi è una squadra che va molto a sprazzi, ci va molto alle folate dei singoli, e quindi non potrà, continuando così il Bologna, a fare grandi risultati quest'anno. Ragazzi, like al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, ci vediamo dopo con nuovi post partita. Bella! Давitale, tutto occidentale la custo� 전 lanuar, su Ale posto, ernichi sono cose rispondo e clamato. iana as- metadata.